Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui appunto vi svelo finalmente dove abito qui in Germania. Si tratta di un paesino relativamente piccolo in realtà che si chiama Münsingen, come vi avevo già spoilerato non sono a molti chilometri da Stoccarda. Il paesino come vi dicevo è relativamente piccolo quindi non ci sono molte attrazioni turistiche a livello culturale, però comunque sia c'è qualcosina ed è quello che vedrete in questo video. In ogni caso vi spoilerò già che le attrazioni turistiche principali sono quelle naturali e ambientali. Ci sono molti percorsi sia a piedi che in bicicletta che si possono fare in mezzo alla natura e a qualche chilometro da qui c'è la biosfera che è patrimonio UNESCO, tanto per capirci. Peraltro spero di riuscire ad andarci un giorno magari anche solo mezza giornata quando libero e appunto portarvi un video anche da lì che secondo me almeno dal mio punto di vista sarebbe molto interessante. In ogni caso appunto vi dicevo in questo video vi farò vedere che cosa c'è e che cosa può offrire anche un comunque un paesino piccolino come Münsingen appunto a livello turistico in centro e appunto godetevi il video. Grazie a tutti. 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 Al prossimo video, have a nice life.